Oltre a un aumento degli assistenti sociali e a maggiori investimenti sulla loro formazione, si pensa anche ad una separazione dei ruoli. Chi viene chiamato per assistere, molto spesso sono le famiglie stesse per prime che chiedono aiuto, non deve essere anche poi colui che indaga, diciamo così, su eventuali rischi di maltrattamento o di abuso.